Ma anche qua, capiamoci bene, un conto è avere due anni in più per rientrare sotto il 3% e un conto è risalire oltre il 3% con un aumento del deficit. Il regalo dei due anni in più consiste unicamente nell'evitare che scattino quelle sanzioni che la Commissione può proporre qualora il disavanzo eccessivo si prolunghi per un termine che lei giudica troppo lungo. Allora in questo caso possono scattare le sanzioni, come sapete ai termini del trattato, sono sanzioni pecuniarie, sono delle multe se vogliamo dirlo in termini più rudi. Allora ottenere una tolleranza nel termine di rientro sotto il 3% significa non subire le sanzioni e avere un atterraggio più morbido che indubbiamente è un vantaggio. Però in questo atterraggio morbido lo Stato in questione è comunque tenuto a contenere i propri conti. Il fatto che chieda un atterraggio più morbido significa che ha un'oggettiva difficoltà a rientrare sotto il 3% e in quell'oggettiva difficoltà difficilmente, anzi molto improbabilmente, molto difficilmente potrà aggiungere altre spese per fare ulteriori investimenti.